ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come scaricare e installare paint 3d un programma quasi simile a photoshop però un programma gratuito che potete usare per modificare foto oppure scriverci sopra fare qualsiasi cosa con le immagini quindi in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare paint 3d oppure possiamo andare direttamente su microsoft store eccolo qua microsoft store come potete vedere c'è netflix e spotify quindi scriviamo paint 3d eccolo qua facciamo ottieni lo scarichiamo e lo installiamo una volta scaricato e installato possiamo aprirlo ed eccolo qua quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto una breve guida su come scaricare e installare un programma gratuito per modificare foto smanettarci un po sopra e vedere un po che cosa possiamo creare quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao